In un posto anche così lontano, domenica prossima, è un santuario meraviglioso, è un santuario molto bello, quello che andremo a trovare a vicino a vedere, certo, chi può, chi non può, è pazienza. Così anche tutti coloro che hanno potuto ascoltare le meravigliose conferenze che il professore ha dettato nel corso di quest'anno, ho detto che siamo stati veramente efficaci, efficaci per la nostra formazione cristiana e per la nostra traduzione sempre più vera, sempre più sentita all'amato di Dio. Ho visto questa sera alcuni che li ho invitati io personalmente, volte nuovi, ho detto venite e ascoltate, vedete che sono delle cose che non tanto facilmente voi potete sentire in altre parti, in altri luoghi, credo che il professor Lentico quest'anno ha profuso tanto di quell'integro, per questi incontri, che hanno un valore immenso, grande, che forse nessun altro fede, nessun altro stagionatore avrebbe potuto farci fare, come li ha ascolti lui, per la sua professionalità, perché riguardava la poesia, ecco, no, la poesia per la Madonna, per gli autori poeti che hanno voluto cantare, ecco, veramente per la Madonna, e non perdiamo forse molto tempo perché altre forse ce le diciamo subito dopo, va bene, appena, e diamo la parola al professor Lentico.